All'Adriatico davanti ad 8.000 spettatori si affrontano due delle protagoniste dei play-off dello scorso anno e che si prefiggono di fare bene anche in questo campionato. In campo il Pescara ripresenta i nazionali Verra e Mandragora con Fornasiera al fianco di Zuparic. Fra gli Irpini tante le defezioni in difesa. Il Pescara inizia il match con un piglio deciso. Al quarto c'è un diagonale di Verra in area con la correzione in scivolata di Gianluca Lapadula che mette di un soffio a lato dando l'illusione del gol agli spettatori presenti in tribuna. La gara è viva e regala emozioni anche al 22esimo con Viraschi non al meglio che getta la spugna che viene sostituito dall'ex difensore delle Chieti Giron. Il canovaccio della sfida fra Biancazzuri e Biancoverdi è ben delineato con il Pescara a fare la gara e gli ospiti a cercare di reggere l'urto. Al 28esimo Benali in contropiede se ne va verso Frattali ma si allunga la sfera e permette al portiere avelnese di salvare con Caprari che poi non riesce a concludere verso la porta. Il gol della formazione di casa è nell'aria e arriva al 37esimo quando su cross di Crescenzi in area ilpina tocca con la mano il pallone Chiosa. È il rigore che Memuschai trasforma con la consueta freddezza per l'1-0 con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa si ricomincia l'insegna dell'equilibrio prima del raddoppio Biancazzurro griffato da Verre al settimo che festeggia così con un diagonale perfetto il primo gol in maglia Biancazzurra. All'ottavo Trotta impegna Fiorillo ma il Pescara domina e all'undicesimo è Zampano in area ad alzare sopra la traversa. Ma chi pensa ad una gara in discesa deve ricredersi perché al diciassettesimo Zito appena entrato in campo lascia il segno realizzando il gol del 2-1 e che riapre la partita. Il Pescara rischia e traballa ma resiste anche se al 26esimo Fiorillo colpito involontariamente da Fornasier resta a terra per quasi 5 minuti prima di riprendersi. Ma superato il momento di unpass il Pescara ritorna a colpire in modo micidiale al 34esimo con un aerogol di Gianluca Caprari fa esplodere l'entusiasmo dei supporters Biancazzurri. Sul 3-1 il Pescara respira e poco dopo sfiora al 38esimo il poker con la Padula che chiama al miracolo con i piedi frattali. Prima di colpire di testa di poco a lato sugli sviluppi del calcio d'angolo ma la sofferenza è di casa all'Adriatico visto che al 45esimo arriva sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La rete di Mokulu che va a colpire di testa da due passi fissando il punteggio sul 3-2 e dopo un recupero di 7 minuti può iniziare la festa sugli spalti con il Pescara che festeggia altri tre punti ed una classifica che sa sempre più di Serie A. Grazie.